Bonjour, oggi è 8 settembre, c'è il matrimonio di Serargino e vi porto con me come ogni anno a vedere cosa succede nella strada più bella, ossia via ma tutti, andiamo! Vedi che stanno cuocendo? No, no, c'erano solo loro, quest'anno siamo tutti ceresti. Oh che carini, il staff di Ammateotti, a me il lavoro è motivato, è giusto, molto molto bello, molto bello questi bambolotti, i bambini morti anche, no, tu non ce l'hai la maglietta staff di Ammateotti, no vabbè, è seria, è seria, capito? Guardia, mi stanno facendo la sbocca! Ammateotti, guarda il nonno! Non è la prima! Ah sì! Un po' più! Sì, un po' più! Sì, un po' più! Sì, un po' più! Uno! Uno! Tutto! Tieni... Pensi che... non... Lui mio, lui te la fai cura sotto discorso, quest'anno te la fai cura sotto discorso, io mi fai io sempre. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.